buongiorno vi stavo aspettando e nel frattempo mi stavo godendo questo piacevolissimo terrazzino sono nicola carbonara assistente del team martinelli remax della polare e oggi siamo a carrassi in via buccari e quello che vi mostriremo oggi è un appartamento di tre vani posto al primo piano con ascensore ora all'interno ci sarà il mio collega alessio che ve lo mostrerà più nel dettaglio vi sta aspettando avete visto che fantastica cucina ampia e luminosa e il terrazzino ma la casa non è finita qui ci vediamo alla fine dal soggiorno passiamo alla zona notte composta da due camere matrimoniali di generosa e importante metratura che affacciano entrambe su un comodo terrazzino che gode addirittura di due comodi di postigli nicola è voluta restare un altro po sul terrazzino io invece corro in agenzia non potete perdere questa occasione aspetto le vostre chiamate